La comunicazione istituzionale La comunicazione istituzionale certamente ha un ruolo molto importante all'interno di una multinazionale, certamente all'interno di una multinazionale come Coca-Cola, essenzialmente per due motivi. Il primo motivo è che noi, così come altri grandi brand, operiamo in contesti estremamente differenziati dal punto di vista non soltanto economico, ma anche sociale e culturale. E questo ci impone di trovare delle modalità per adattare la nostra comunicazione a quelli che sono gli usi, la cultura, la mentalità del mercato dove andiamo a operare, dove svolgiamo progetti di comunicazione istituzionale. Il tema qual è? Quello di mantenere comunque un equilibrio tra la necessità di adattare la nostra comunicazione al mercato locale, ma tenendo sempre ben fermi quelli che sono i valori della nostra comunicazione istituzionale. I valori devono essere uguali dappertutto perché noi non possiamo avere una comunicazione diversa a diverse parti del mondo. Quello che deve cambiare è l'approccio e le modalità con cui i messaggi vengono declinati a livello locale, mentre i messaggi devono essere definiti a livello centrale.